Siamo qui con Rosignoli, centro della Fiorentina Basket, dopo questa vittoria convincente contro Cecina del recupero. Una partita dominata un po' sotto il pitturato e che ha avuto anche vita facile. Siamo molto contenti per la prestazione che abbiamo disputato. C'è da dire che comunque Cecina è una squadra più forte di come è adesso perché è molto rimaneggiata, ha tre giocatori fuori che sono fondamentali per loro e diciamo che la vita è stata un po' più semplice rispetto a come ce l'aspettavamo all'inizio. Comunque bravi a tutti perché abbiamo fatto una partita come al solito intensa e ci abbiamo dato tutti al 100% e abbiamo avuto un ottimo risultato. Detto questo è una vittoria che vi porta anche altri due punti in classifica, vi fanno volare al secondo posto in coabitazioni con altre squadre, ma sicuramente passerete un buon Natale. Indubbiamente il Natale sarà felice perché comunque siamo riusciti a recuperare in corsa dopo un inizio difficile purtroppo. L'unica cosa è che adesso non ci dobbiamo montare la testa, dobbiamo pensare una partita alla volta perché abbiamo dimostrato che in questo girone si può vincere e perdere contro tutti, quindi testa sulle spalle e pensare una partita alla volta.